La presunta attività di spaccio Perquisendo il locale, gli agenti hanno trovato tra le spezie posizionate sul bancone della cucina un panetto di hashish di circa un etto, all'interno del forno a microonde di 5.000 euro in contanti e alcuni frammenti tra marijuana e hashish, mentre un bilancino di precisione era stato nascosto nella parte posteriore dell'elettrodomestico. Quattro diversi telefoni cellulari sono stati trovati dai poliziotti dietro il banco di mescita, uno dei quali nascosto all'interno del registratore di cassa. Proseguendo i controlli, il singolare è stato rinvenimento nelle tasche del vicepresidente di circa 10 chiavi ed un telecomando. Dalle verifiche effettuate sull'ottovettura in uso all'uomo, è emerso come questi non avesse mai conseguito la patente di guida e che il veicolo in uso in suo possesso appartenesse ad una terza persona, a cui era stato precedentemente sequestrato per mancanza di copertura assicurativa. Il deposito indicato nella documentazione riportava un indirizzo in zona barriera Milano. A questo punto le genti del commissariato sono andate all'indirizzo indicato, uno stabile di box disposto su tre livelli. Alcune delle dieci chiavi rinvenute in fase di perquisizione hanno permesso l'apertura del cancello principale d'accesso e di alcuni box indicati da 28enne. Durante il controllo di uno di questi, il cano antidroga Evan ha improvvisamente manifestato il proprio interesse verso un box che non era stato segnalato dall'uomo. Una volta al suo interno, gli agenti hanno trovato un borsone contenente 16 confezioni di marijuana per un peso di oltre 17 kg, sulle quali erano indicate le diverse qualità, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, e in 28enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza suprotocente.